Ciao a tutti, mi stanno impazzendo tutti gli artisti poracci. Allora, io non so che cosa sta capitando. Avevo fatto il video su Miley Cyrus e Carly Rae Jepsen, il pop diventa indie, l'apocalisse. C'è questa tendenza dagli artisti mainstream di andare verso nuove sperimentazioni sonore e darsi un tono da artista con l'H finale. Poi ho anche a questo proposito recensito l'album di Justin Bieber, l'ultimo, su cui però mi devo ricredere. Io le avevo detto comunque che era un album mezzo mediocre, con qualche pezzone, però anche i pezzoni mi hanno veramente stufato. Quindi diciamo che entrano nella categoria della musica pop, che secondo me c'è il grande difetto della musica pop ed è anche il motivo per cui non è che l'ascolto spesso, l'ascolto solo quando devo far palestra o devo andare a correre, è che una canzone pop ti prende per due o tre giorni e poi ti stanca subito. L'unico album di artisti poracci voltati verso nuove strutture sonore, diciamo, che tuttora mi piace è quello di Carly Rae Jepsen, che tuttora ascolto. Sono canzoni pop perfette che non stancano mai, non stancano mai, ecco, ripetiamoci. Quindi lei ha vinto, diciamo, Miley Cyrus alla tentata con il rock psichedelico non le è uscito tanto bene. E ora abbiamo Rihanna, Rihanna che è impazzita totalmente. Allora, cioè, lei o i suoi producers, non lo so che cazzo è successo, sono dati tutti una botta di MDMA. Fatto sta che Rihanna, lei era solita pubblicare un album all'anno, che poi in realtà questa cosa di diventare mezzi artistoni funziona, perché io non è che vado ad ascoltarmi un album di Rihanna, ma che me frega. Cioè, se proprio proprio, cioè, anche, però ripeto, è perché il pop non è il genere che più mi piace. Cioè, se proprio proprio, magari, se fa un singolone di quelli picchiaduro, lo piazzo nella playlist della palestra, me lo ascolto, poi la cancello dopo tre giorni e fai. Bah, se tutti diventano artistoni, dopo ti viene la voglia di ascoltare l'album, quindi anche una bella mossa di marketing per attirare più pubblico. Il problema è che poi ferisci invece il pubblico che vuole da te canzoni pop, senza pensieri, ecco, diciamo. Ed è un po' il rischio che si è presa, anche perché, diciamo, lei era solita pubblicare un album all'anno, perché deve cavalcare l'onda senza mai stare indietro. Però qualcosa deve essere successo, una gestione malfatta della pubblicità, della produzione dell'album, e sono passati quasi quattro anni dall'ultimo album che l'ha fatto, tre anni e mezzo. E l'anno scorso lei ha pubblicato tre singoli, completamente esenti di album, e sono fuori dalla tracklist anche di questo nuovo album che è Entai. E sono For Five Seconds, che è una ballattina pop acustica, soul, niente di che, ma non malaccio, dai, con Can I West e Paul McCartney. Poi ha fatto Bitch Better Have My Money, che è una poracciata, ma neanche così tanto male. E poi ha fatto American Oxygen, che è inutile, cioè ha tentato di fare un sound alla lana del rei, che a me sta sul culo, non la sopporto lana del rei, ha una voce terrificante. Secondo me adesso insultatemi, ma veramente è imbarazzante. Quindi no, non mi è piaciuta. Però ero curioso sul progetto che ne sarebbe uscito fuori. E adesso lei, dopo mille indizi, cagate varie, che non si deve sapere, non si deve fare, l'album che non esce, eccetera, decide di punto in bianco di regalarlo a gratis per un giorno. Un po' come avevano fatto i Radiohead in Rainbows, anche se gli dovevi dare il tuo prezzo. E potevi scaricarlo a zero euro, io me lo ricordo quando c'era questa cosa. Avevo sedici anni, quando era uscito in Rainbows, sul sito dove scaricavi, davi il tuo prezzo. Un po' come Bandcamp, no? Invece lei ha deciso proprio lo regalo per un giorno, scaricatelo a gratis, eccetera. E in teoria ha un singolo trainante, che è la canzone peggiore dell'album, che è Work, bruttissima. Ma non è un singolo da radio, anche perché io non la sento. Cioè, a me capita magari, tipo, io per mesi, anni, sono stato convinto, ero convinto di non aver mai sentito una canzone di Ariana Grande. Cioè, la conoscevo solo di nome, ma non pensavo di essere completamente lontano dall'aver ascoltato le sue canzoni. E in verità, poi, me ne capita una a Casaccio, mi dicono, è di Ariana Grande. E io la sapevo già, quindi vuol dire che è una hit totalmente martellata, la canzone di Ariana Grande, che, pur non sapendo che la canta lei, io so già il ritornello, perché la sparano e viene assimilata a livello subliminale, no? Allo stesso modo succedeva con Rihanna, quando era uscita a Dye. Vabbè, a parte che Rihanna ha un timbro vocale riconoscibile. Ariana Grande ha una bella voce, però non è che dici, oh mio Dio, è lei. Anche perché io non l'avevo mai ascoltata di mia spontanea volontà. Rihanna è molto meno dotata vocalmente di Ariana Grande, però ha un timbro più riconoscibile, sicuramente. E niente, invece Work proprio non mi dice niente, non l'ho mai sentita in giro, non penso neanche che stia avendo successo. Non lo so, io sono completamente fuori da questo circuito delle classifiche, non me ne fotte un cazzo. Pur che la musica sia bella, non me ne fotte un cazzo della classifica, ma che cazzo ce ne frega. Work è un pezzo di merda, proprio brutto. L'ha fatto in due secondi, con due bip 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 bip, lei fa wah 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 tutto il tempo. Poi arriva Drake che dice due cosette, ed è finita lì la canzone. Ma su che binari viaggia Entai? Non ho capito, non c'è un vero... L'ho ascoltato tre volte per avere un pensiero definitivo sulla faccenda. Non è malaccio, nel senso mi aspettavo più rischio, francamente. Ma la paura è un po' quella che abbia preso degli scartini. E che la mossa di pubblicarlo a gratis sia una mossa per tenere a bada i fan che aspettavano un album. E in verità non c'è niente di che. Sono molto interessanti certi suoni. Ci sono un paio di pezzi che veramente dici cazzo figo, detto da uno che non ascolta Rihanna. Perché no? Tipo Kiss It Better, che secondo me doveva essere il singolo trainante dell'album. C'è una canzone pop fatta bene, veramente bella, catchy, sensuale, appassionata. Con questo... Prodotta un po' in toni quasi grezzi, amatoriali. Però chissene, cioè è molto retro, è molto sensuale, mi piace. Ed è... e ti rimane in testa dopo un ascolto. Work, vabbè, è una cagata. Poi ci sono dei pezzi in cui esce fuori un'anima di Rihanna che non t'aspetti. Tipo Desperado, molto figa. Dove c'è lei che ha questo timbro molto cupo, molto trascinante e... Uh, uh, non so. Che è stata... Ovunque si dice che è la canzone più brutta dell'album o inascoltabile, eccetera. Sarà che sono... che mi piacciono anche le robe mezza industrial, incazzate. Però io non mi aspettavo di ascoltare un pezzo del genere da Rihanna con questo beat ossessivo, con chitarra, tagliente, cattivo, ripetuto, martellante. Fa male proprio la testa. Però è un pezzo che mi è piaciuto. È proprio aggressivo nella struttura, nella ripetizione di quel beat, come se volessi fracassarti la testa continuamente. Rumorosissima. A me non è dispiaciuta. Per non parlare di Same Old Mistakes, che in verità è una poracciata, perché è una cover dei Tame Impala dall'album Currents. Praticamente cosa è che ha fatto? Ha preso la base della canzone originale e ci ha cantato sopra, a mo' di karaoke. Allora, il risultato finale è ovvio che non faccia cagare, perché se prendi una bella canzone, la canzone originale a me piace molto, e ci canti sopra tu con questa voce molto dreamy, molto... non lo so, funziona, perché è una canzone pseudo-psichedelic pop. E allora è ovvio che viene fuori un risultato molto carino. Io quando l'ho ascoltata, perché conoscevo già la canzone prima, ho detto, se vabbè ma sei una poraccia. Però se non sapessi che è una canzone dei Tame Impala, l'originale probabilmente mi piacerebbe tanto, perché è una bella canzone. Lei la interpreta bene, il problema è che appunto non l'ha reinterpretata. Ha cantato sopra una base già fatta, che è la canzone originale. È puro karaoke, è puro karaoke. Love on the Brain, molto carina, molto duop, molto retro, sixties, eccetera. Mi è piaciuta molto, è molto... lo vedo bene come un bel singolino carino. Consideration, che è la intro, che è inutile. Cioè, dura tre minuti, ma sembra una intro, cioè, non lascia niente. Però mi piace molto il beat, bello spezzato. Probabilmente è di produttura Travis Scott, che tra i produttori dell'album si sente questo beat, molto EDM, glitch, molto interessante, molto ben strutturato. Però c'è lei che... c'è lei che canta decentemente. Io devo dire che qua Rihanna ha una bella prova vocale in quasi tutti i pezzi, tranne quando c'è In Work, che vabbè, lei è lì, che fa wah, 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 wah. Però ci sono altri pezzi, tipo Kiss It Better, Desperado, Same All Mistakes, Never Ending, che è una ballad molto soft, Love on the Brain, Higher, anche. In cui lei proprio la voce la fa sentire, dimostra che, per quanto non sia sta gran cantante, secondo me, dimostra di avere tecnica, capacità, mi è piaciuta. Riguardo alla cover dei temi in pala, il rischio è che, secondo me, c'è quest'idea del fatto che, secondo me, nel mainstream ci sono dei problemi di scrittura di canzoni adesso. Non lo so, si cerca la hit perfetta, ma siccome se la ricerca è talmente tanto perfetta, non si hanno idee, allora si preferisce prendere questa svolta arti e prendere pezzi, cercare un territorio di songwriting nell'indie, no? Nell'underground, che poi, vabbè, i temi in pala sono praticamente mainstream, ce la riconoscono tutti, però è comunque decisamente più underground di Rihanna. Questo è poco, ma sicuro. Quindi non lo so, secondo me è un'altra idea per cui si prende quest'altra direzione, verso l'arti, verso... non lo so. L'album in sé, devo dire che non è malaccio. Io voto da 1 a 10, gli do 6. È un album piacevole, è un album interessante, poteva rischiare molto di più e secondo me doveva fare la paraculata di avere veramente il singolone cazzuto per tenersi buoni i fan, perché i fan sono incazzati, ovviamente. A me non me ne frega niente perché non sono fan di Rihanna, però i suoi fan immagino che possano essere incazzati dopo una roba del genere, perché suona tutto molto spontaneo, stranamente spontaneo. Io mi aspettavo una cosa molto artefatta, considerando che doveva essere il disco della maturazione. Invece no, sì, è arti, però è molto spontaneo, grezzo. Non è sovrastrutturato, come te lo puoi aspettare da un album che ci ha voluto quattro anni per uscire. L'unica canzone che può funzionare come singolone è Kiss It Better, però... Kiss It Better, com'è che l'ho pronunciato? Kiss It Better. Però a me piace molto, ma non lo vedo come il singolone di Rihanna. Secondo me doveva fare la paraculata di prendersi il singolo trainante, deciso però. Farlo sempre questo mood dell'album che viaggia un po' tra il malinconico dark, dark però per gli standard di Rihanna. Malinconico, scuro e dall'altra parte molto sensuale. Però una sensualità decadente, stranamente. Cioè Rihanna è tutta sudore di solito. Un po' è molto decadente, molto... Sono la fan fatal, ma sono triste. Questo è il mood dell'album che si percepisce. Quindi se gli darei un 6, è un album carino che vi consiglio, detto da un profano. Fatemi sapere se l'avete ascoltato. Ciao a tutti.